L'obiettivo è raggiungere 200 vaccinazioni al giorno. Nuovo sopralluogo di TV City questa mattina nei locali della Santissima Trinità a Torre del Greco, concessi dall'amministrazione comunale all'ASL per dare avvio alla campagna vaccinale sul territorio. Dopo l'apertura sabato mattina alla presenza anche del sindaco Giovanni Palomba e della consigliera regionale Loredana Raia, si procede a ritmi serrati con le vaccinazioni degli over 80 e contemporaneamente anche delle forze dell'ordine. Ai microfoni di TV City fa il punto il dottor Ivano Auscello. Sabato mattina abbiamo iniziato le vaccinazioni agli ultraottantenni qui a Torre del Greco, stiamo procedendo ad un buon ritmo alla media di 120-150 vaccinazioni al giorno. Contemporaneamente stiamo vaccinando anche le forze dell'ordine, il nostro obiettivo è quello di raggiungere perlomeno le 200 vaccinazioni al giorno che ci prefissiamo di raggiungere a breve, anche nella prossima settimana. E come stanno rispondendo i cittadini di Torre del Greco? Fino adesso non abbiamo avuto nessun dinigo, stanno aderendo tutti quanti alla campagna vaccinale grazie anche all'ottimo lavoro che è stato effettuato dai medici di base sul territorio che hanno persuaso quelli che avevano qualche perplessità in merito alla tipologia di vaccino da somministrare. Attualmente stiamo vaccinando gli ultraottantenni con il Pfizer-BioNTech e le forze dell'ordine in mece con l'AstraZeneca. Intanto una nuova richiesta di chiarimento in merito alla campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità arriva questa mattina dal sindacato anziani della CGL. Ci giungono diverse segnalazioni di anziani che non hanno capito se devono recarsi a Torre del Greco o nei centri vaccinali di Pollena e Gragnano, spiega il responsabile Pietro Panariello e quali siano i requisiti delle convocazioni inviate dalla piattaforma regionale. Per questo abbiamo scritto al direttore del nostro distretto sanitario per avere informazioni chiare e precise. Gli over 80 già hanno numerose difficoltà per prenotarsi sulla piattaforma e sono costretti a rivolgersi ai patronati. Non tutti hanno la possibilità e i mezzi per raggiungere punti vaccinali più lontani. La nostra richiesta è sempre la stessa, conclude Panariello, e cioè che siano vaccinati nei locali della Santissima Trinità. Una scelta strategica, aveva dichiarato la RAIA in occasione dell'apertura. Visto che Torre del Greco è un comune con un'alta densità abitativa, si prevede l'individuazione di altri centri vaccinali sul territorio? Per il momento questo è il sito anche perché è stato pensato un luogo strategico centrale e soprattutto non lontano dal presidio ospedaliero. Quindi questa è stata la scelta fatta tra ASL e Comune che devo dire la verità trovo una scelta molto oculata. Da questo insomma mi vale la pena che sottolinei e evidenzi che se pensiamo a Napoli l'unico centro vaccinale l'ha mostrato oltremare. Eppure Napoli insomma ha circa un milione di abitanti, 900 mila. Quindi tutto sommato riteniamo che il centro vaccinale possa soddisfare con l'implementazione dei turni e con l'arrivo dei nuovi dosi di vaccini tutte le esigenze della popolazione.